Simone e Anzani siamo pronti per scontrarci con Praga nella prima giornata di ritorno della Poulain Champions League. Che partita sarà? Sicuramente una partita per noi importante perché ci qualificheremo come primi nel girone e penso che per gli accoppamenti futuri della Champions League sarebbe una cosa molto positiva per noi quindi dovremo affrontare la partita l'universo dei modi con l'appoggiamento che ci sta contraddistinguendo in questa fase della nostra stagione. Noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e penso che non ci saranno dubbi su quello che succederà. Finora la Lube è stata perfetta o quasi in Champions League, riuscirà nel girone di ritorno nonostante il vantaggio avere la stessa determinazione e fame di vittoria? Sicuramente passa tanto da noi, da quello che facciamo dalla nostra parte del campo quindi penso che, come ripeto, sappiamo quello che dobbiamo fare e se mettiamo in campo le nostre armi migliori siamo noi che decidiamo il futuro di questa partita e di questo giro.